E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche questa mattina andiamo insieme a fare il nostro consueto Morling with Crypto dove andremo ad approfondire quelle che sono le principali news di mercato, quello che sta accadendo un po' al settore, andremo a vedere poi i gainers, i losers, dico il market gap e poi un rapido sguardo alle chart come sempre per capire un po' quello che sta accadendo, quello che è successo. Detto questo come sempre ragazzi prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse, di vostro gradimento, a me aiuta davvero davvero tanto col canale quindi se lo fate vi ringrazio e anche per il vostro supporto, basta vi invito ad andare a dare un'occhiata in iscrizione sia ai link appunto affiliati perché sono servizi che sto utilizzando e di cui appunto tengo aggiornato in descrizione. Prima di partire voglio farvi vedere perché c'è questa offerta qui che è molto figa secondo me di Bingbon perché faranno un evento dedicato al Natale, inizierà tra poco ok? Però è interessante perché hanno diverse, è molto articolato ragazzi quindi vi lascio poi in descrizione sia questo link qua che tutto il dettaglio proprio per iscritto perché ci sono un sacco di bonus, di free money proprio che vengono airdroppati quindi ve lo lascio proprio day by day, è un po' come il calendario dell'avvento. Ci sono delle sorprese che vengono poi date sui vostri account, secondo me è fatto molto bene, è anche molto carino da vedere quindi vi invito di registrarvi qua sulla pagina che poi trovate qua sotto in modo tale da poter proseguire quindi molto bene anche queste iniziative qua aiutano sicuramente. Detto questo l'India cosa sta facendo? L'India sta per andare a regolare e non a bannare. Questo appunto è quello che si evince dai lock and media, ok? Quindi dalle testate indiane che parlano appunto di come le cripto non vogliono essere bannate ma vogliono essere regolate tipo commodity. Quindi non verranno diciamo normate per essere un metodo di pagamento ma appunto verranno utilizzate proprio come una commodity. Ovviamente intorno a questo la regolamentazione sarà dei gateway di entrata delle fiat currency e di uscita in fiat currency quindi è lì poi il problema fondamentale da gestire. L'ingresso e la fuoriuscita di denaro fiat perché è lì che ci possono essere eventuali problematiche di antiriciclaggio insomma o di potenziali finanziamenti al terrorismo come parla il governo dell'India. Perché però sono anche dei rischi ragazzi che bisogna gestire nel senso che non si può chiudere gli occhi sicuramente ci sono delle criticità legate alla legalità di alcune operazioni. Quindi è anche giusto dare un'idea di base. È chiaro che non si può fare pensare in un'ottica di regolamentazione che sia troppo stringente perché sennò tutte quelle che sono opportunità diventano dei problemi da gestire. Quindi allontaniamo più che avvicinare le persone a questo settore però comunque l'importante è che si vada verso una regolamentazione adeguata. Detto questo a proposito di cose strane in realtà c'è un piccolo studio che è andato a vedere come in ottobre attraverso le live stream di youtube fake si siano tirati su 9 milioni di dollari in cripto dagli scammer. E questo è sempre stato un problema avete presente no quei video dove magari vi dicono mandatemi un bitcoin ve le mando indietro due ecco ragazzi state attenti in questo settore davvero non vi regala niente nessuno nessuno regala niente ok. Quindi tutto quello che vedete di sospetto di troppo bello per essere vero ha sempre dietro qualcosa quindi mi raccomando non cascate in queste cose qua. Io ve l'ho portata solo per farvi capire che sembra ma chi lo fa ma chi è quello scemo che si mette a mandarli e guardate cioè questi tirano su 9 milioni di dollari in un mese ok in totale però se lo fanno è perché hanno delle buone ragioni per farlo. Quindi mi raccomando state no attenti di più a tutto questo per concludere immagino che sappiate chi è Katie Wood ma per chi non lo sa insomma è una è di Arch Invest insomma è il capo termine tecnico di Arch Invest che è uno dei fondi che sta investendo maggiormente in bitcoin e rimane il CEO e rimane super bullish ok per quello che riguarda bitcoin. nel mercato anche perché Katie Wood insomma parla del discorso inflazionistico del rischio appunto che tutto ciò porta e di come effettivamente in questo articolo descriva l'onchain come una situazione che sia molto bullish per bitcoin rispetto che bearish e che quindi porti maggiore come dire tranquillità all'interno del suo investimento. secondo me da un punto di vista onchain rispecchia la realtà delle cose ma è un indicatore che lagga un po' quindi a livello di prezzo molto spesso non vediamo particolare correlazione se non in periodi ma solitamente l'onchain va un pochino a dare l'indicazione nel lungo periodo di quello che è poi l'andamento di bitcoin. quindi lei rimane positiva e insomma ci tenevo insomma a condividerlo con voi. detto questo andiamo a vedere i gainers delle 24 ore troviamo un bat infocato più 44 26 più 64 settimanale. livepeer un più 36 26 quindi anche bene anche livepeer anchor più 23 sia coin più 21 the graph torna a farsi sentire un pochettino un progetto che poi era rimasto un po' così con poca attenzione pochi riflettori puntati un più 17 cadena un più 16 file coin un più 14 terra luna ottimo rimbalzo un più 10 insomma abbiamo parecchi per i key gainers tra i losers invece chi troviamo troviamo Wax che fa un meno 17 troviamo The Sandbox ragazzi The Sandbox ha fatto una scalata incredibile rimane con un più 70 settimanale è normale che corregga un meno 15 e Ingin coin un meno 11 Voyager un meno 9 Crypto.com un meno 9 stessa cosa stile The Sandbox quindi non possiamo dire nulla e attenzione no tutte queste situazioni qui perché chiaro che poi si va in correzione stessa cosa per The Sandbox, Chillitz insomma audio insomma tutti i nomi che fondamentalmente hanno messo doppie cifre up nel giro di poco quindi è normale che vadano a correggere e quello che si nota dalle chart da che ieri ci siamo salutati insomma in una condizione molto positiva perché siamo salutati qua circa le 18 e abbiamo continuato a proseguire fino a mezzanotte ad approvare attaccare il 59.3 dopodiché sono intervenuti più che altro nelle ore 3 del mattino un po' di volumi bearish senza particolari buyers che ci hanno risportato un po' in questi livelli qua di 57.6 ok da dove è partito poi il nostro pump notturno più che altro dei 6 del set era 57 ora vedremo se riusciremo a settare magari questo come un low più alto del precedente ok questo qui per poter poi andare a rompere a rialzo o stringerci piuttosto in un equilibrio quindi non sono così preoccupato in questa fase qui ci può stare un po' di consolidazione personalmente e vedo nomi come ad esempio luna che se ne sono fregati altamente come dicevo prima di uno potenziale anche shake notturno e infatti stanno aprendo positivi e continuando positivi a ridosso dei loro medie mobili quindi non sono così diciamo in questo momento preoccupato è ovvio che ragazzi questi non sono né consigli di trading né finanziari può collassare tutto a zero ok questo dovete sempre metterlo in testa quindi non è che perché io dico questo allora si si va all in o si fanno cose particolari gestite sempre voi le vostre idee e le vostre posizioni questo è fondamentale a livello di market cap ci manteniamo su 2,57 quindi manteniamo la 50 e la dominance ancora in correzione quindi tutto molto diciamo in prosecuzione di quello che è stato non abbiamo particolari segnali di inversione su quelli che sono questi parametri e quindi anche là è da valutare da gestire io ragazzi non voglio andare oltre perché appunto è appuntamento mattutino ci vediamo questo pomeriggio varrà sera con un altro update vediamo un po' come strutturare il tutto detto questo vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace ad iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto più tardi con un altro update ciao ragazzi ciao 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 Grazie.